Il sabato di 28 anni fa. Era il compleanno di mio figlio e quindi erano venuti anche i miei genitori a casa e alla fine di questa festa con i bambini noi accendemmo il televisore e davvero noi rimanemmo, che dire, proprio impressionati dalla ferocia che era stata, che aveva portato a questa strage. Da quel momento, secondo me, c'è stata anche la riscossa dello Stato, del nostro paese. Lei ha detto che c'è il rischio che i finanziamenti del dopo Covid finiscano nelle mani sbagliate, quelle della mafia. Cosa state facendo per evitarlo? Allora, io ho già diramato una direttiva ai prefetti, proprio perché vengano monitorati tutti i passaggi, anche di denaro, per evitare che queste ingenti risorse vadano a finire in mani sbagliate. Falcone diceva, segui il denaro e troverai cosa nostra. Lei teme che le mafie possano fare da banca ai privati cittadini? Io questa preoccupazione ce l'ho perché occorre infatti che vengano seguiti anche quelli che sono i passaggi di proprietà in questo momento delle imprese, che imprese sane, che sono in crisi di liquidità e quindi possono essere facile preda di questi soggetti, di questi mafiosi che vogliono entrare nell'economia legale.